Nel Cilento, specialmente negli ultimi anni, si è molto sviluppato con le compagnie ammatoriali la passione e l'amore per il teatro. Noi siamo riusciti, un ente accreditato, e la Regione Campania ci ha dato dei corsi che qualificano l'attore, cioè gli danno la possibilità non solo di insegnare nei prossimi anni agli istituti, perché ricordiamo il teatro entrerà nelle scuole, ma presentarsi con questa qualifica professionale unica nella Regione Campania, e diciamo solo a Genoa in questo momento stanno facendo questi corsi, quindi i ragazzi sono molto fortunati, i ragazzi anche i meno giovani, potranno avere un titolo che in questo momento manca veramente. Ricordiamo che dal 2015 la Comunità Europea chiederà questi titoli, perché se no non si potranno presentare, quindi è un'occasione unica e ripetibile per creare, per avere un lavoro. Ci sono tantissime scuole di danza, purtroppo la danza, in questo momento, diciamo negli anni passati, fino a oggi si poteva aprire una scuola di danza tranquillamente, avendo un curriculum di scuola. In questo momento, dal 2015 in poi, invece il titolo sarà importantissimo, quindi una ballerina, una ex ballerina che ha lasciato la danza e che si vuole dedicare all'insegnamento, con questo titolo potrà aprire una scuola, non solo nel Cilento, e noi saremo lieti di questo, ma in tutta Europa. Che cosa manca nel Cilento? Manca proprio la tradizione, ma non per cattiveria, perché non ci sono mai stati questi corsi e le persone non si sono preparate. Noi guardiamo i tre giornali, con grande professionalità vengono fatti, però manca questa cosa. Anche i politici, quindi io vorrei dire che questo corso, che non durerà tanto, durerà 20 ore, servirà moltissimo a politici, a imprenditori, a giornalisti, e quindi hanno questa fortuna, che abbiamo abbinato il corso di teatro con il corso di edizione, di poterlo frequentare e avere questo attestato e poi poter presentarsi in maniera, diciamo, decente. La sede principale è Omignano, la sede secondaria è Vallo della Lucania, quindi fra Omignano e Vallo. Voglio ricordare che a Omignano è molto facile raggiungere, perché è proprio sopra la stazione e a Vallo abbiamo tutti i propriamenti possibili.